Messa in sicurezza è il progetto realizzato nell'ambito del piano di azione e coesione 2007-2013 della Regione Calabria che ha dato al Comune di Civita 1.400.000 euro per l'innovazione e le nuove tecnologie al servizio della sicurezza e del territorio e del torrente Raganello Teatro. Lo ricordiamo nel 2018 della tragedia in cui morirono 10 persone tra escursioniste e guide travolti dalla piena improvvisa del corso d'acqua. Radar, sensori e algoritmi affinché ciò che è successo non avvenga più. Quando nell'agosto 2018 si verificarono i fatti del Raganello a Civita, lo dicemmo subito, lo chiedemmo all'allora Presidente della Regione di rendere le gole del Raganello le più sicure d'Europa. Nulla accadde. Quando poi siamo stati chiamati al Governo della Regione ci siamo ricordati di quell'impegno e di quella richiesta e lo abbiamo realizzato. Abbiamo stanziato 1.400.000 euro al Comune di Civita affinché realizzasse un progetto per rendere quelle gole assai sicure e oggi abbiamo i risultati di quel progetto con un sistema di monitoraggio che rende le gole fra le più sicure d'Europa. Un'iniziativa volta anche al rilancio turistico delle bellezze del Comune di Civita e alla friabilità dei numerosi sentieri interni al Parco del Pollino, visto che i nuovi strumenti permetteranno la previsione delle portate in largo anticipo per rendere sicuri i camminamenti prossimi al fiume. Adesso ci aspettiamo, nel caso in cui ci sia il dissequesto della Procura, che queste gole tornino ad essere fruiti dai tantissimi turisti che continuano a venire alle falde del Pollino.